se tutto andrà bene in un mese, un mese e mezzo riusciremo a pagare tutte le nostre dati arretate ozzate, parassita, ozzate noi facciamo tutti i testamana da un giuletto qua ma ti rendi conto? ma dai, sta forse la chiufa lì, la qualunque calmatevi tutti voi siete di solo, vedi aiutare vedi un spicciato, chiudimmo possiamo chiedere l'ospitalità, no? finché troviamo una casa Matele, quando state? la casa è giusta, è bene buona devo lanciare così stanotte, vengono se non si, allora ti procuro a benzina, ti metti qualcosa da mangiare, va bene? qui, non vorrei morire mio paese Reconcetta, ma queste cose ti te le inventi? cammina bene, adesso ti spicci i pomadori e le pavie, ce li mi intucuai ah, un po' di verza mi stai sentendo oggi? grazie posso? non ti imparare con i mosi che vuoi bene i nostri gengetto, ho fatto picci nero allora offendete, va buon samaritano Ecco, io non ho tenuto tenerezza per ciò ebricchio, manco per la lina. Non ti permettere con me tutti così, hai capito? Non ti pensare che è stato facile per me tutti i risultati. Ho rinunciato a tutto. L'unica cosa che era buona che facevi è che non mi facevi proprio nascere. Eccomi di nuovo con voi a parlare di Fast and Furious 7. Come saprete il film fu interrotto a metà delle riprese a causa della tragica morte di Paul Walker lo scorso novembre. Lo script doveva essere riscritto per eliminare gradualmente il personaggio di Walker. Ad oggi lo sceneggiatore Chris Morgan e il regista James Wan hanno escogitato un modo per inscenare la partenza di Walker. Le riprese di Fast and Furious 7 riprenderanno quindi il 7 aprile. Questa volta la trama vede Ian Shaw, Jason Statham, in una missione vendicativa contro la squadra di Dominic Toretto che ha ucciso suo fratello nel film precedente. Allora, voi cosa ne pensate? Potrà vivere il franchise dopo Paul Walker? E secondo voi come dovrebbero gestire gli sceneggiatori la sua uscita dal film? I veri fans di Fast and Furious si esprimano qui sotto. E chi ancora non l'ha fatto si iscriva al nostro canale YouTube per essere sempre aggiornato sulle ultime novità in uscita. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!